Ci sono ad oggi diverse strutture ricettive abruzzesi che hanno ospitato gli sfollati del sisma 2009 che per via di trasferimenti di competenze, ritardi ed inceppamenti vari non hanno ricevuto le somme a loro spettanti. Oggi, grazie ad un meticoloso lavoro di ricostruzione amministrativa, stanno finalmente ricevendo quanto devono avere. Lo ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, che interviene sull'argomento a 14 anni dal terremoto dell'Aquila. I primi fondi a copertura delle fatture messe nella fase emergenziale, ovvero fino al 31 agosto 2012, prosegue Marsilio, sono stati definiti con una determina dell'Agenzia regionale di protezione civile dello scorso 12 maggio. Il grande lavoro svolto dagli uffici regionali dell'Agenzia e dell'Avvocatura, insieme alle amministrazioni competenti come la struttura di missione della Presidenza del Consiglio e degli uffici speciali per la ricostruzione del Comune dell'Aquila e del Cratere, ha permesso di definire le norme mole di informazioni, la verifica effettiva delle prestazioni, la catalogazione e l'incrocio di recupero dei dati. Oltre alla liquidazione delle spettanze nella fase emergenziale, tale attività ha reso possibile fare richiesta alla struttura tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ulteriori 2 milioni di euro di fondi CIPES, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, proprio per completare le attività delle somme destinate al soddisfacimento dei debiti progressi, in molti casi aggravati da spese derivanti dai numerosi contenziosi a danno del bilancio regionale, ha concluso il Presidente Marsilio.